Boom! Ecco qua un altro disturbo che affligge tante donne in gravidanza, alcune anche dopo il parto. L'emorroidi! Ebbene sì! Questa tisana è composta da mirtillo nero, amamelide foglie, vite rossa foglie. In parti uguali un cucchieno di miscela per tassa di acqua bollente, lasciare in infusione per 5 minuti ed eventualmente dolcificare con il miele. Inoltre, per uso topico vi consiglio olio di iperico. Imbevite bene un pezzettino di un batuffolo di cotone e applicatelo nella zona. Aiuta a sfiammare e ridurre un attimo il dolore, favorendo anche il rientro.